Ecco a voi la GKT55 GCE Professional, la potente e precisa sega circolare Bosch. Grazie ai componenti di alta qualità del nuovo sistema binari di guida Bosch e alla lama di precisione, con la sega circolare si possono eseguire tagli puliti e precisi di qualsiasi lunghezza. La precisa trasposizione delle impostazioni di profondità e angolo di taglio garantisce un risultato preciso e offre la necessaria sicurezza durante la lavorazione di materiali costosi e pregiati. L'efficace aspirazione della polvere e la lama di precisione a bassa ruborosità garantiscono un lavoro confortevole e pulito. Per questi motivi è ideale per i lavori negli ambienti interni. Tagliare i più svariati materiali come legno, pannelli, alluminio o anche plexigas non rappresenta più un problema grazie al numero di giri regolabili al potente motore da 1400 Watt con Constat Electronic nonché alle lame di precisione appositamente sviluppate. Lasciatevi convincere dalla sega circolare GKT55 GCE Professional, potente e precisa per tagli puliti. Ora, nella nuova valigetta, la pratica è il box unico al mondo.